Il primo effetto immediato e concreto dell'inchiesta condotta dalla procura di Sernia sull'inquinamento della piana di Venafro è l'ordinanza firmata dalla sindaca di Pozzilli Stefania Passarelli che ha stabilito di vieti relativamente alla coltivazione dei terreni avvelenati. Con il provvedimento il primo cittadino ha deciso di sospendere l'attività agricola e di consumo di prodotti agroalimentari provenienti dai fondi contaminati. Sette i appezzamenti individuati ed elencati nell'atto, tutti a destinazione agricola che attualmente risultano coltivati. Una scelta forte ma inevitabile quella della Passarelli che ha ritenuto di dover intervenire per tutelare la salute pubblica e per evitare l'immissione in commercio di cibo contaminato dal benzopirene nonché l'ingresso dello stesso nella catena alimentare.